Ciao a tutti, siamo qui al nostro appuntamento del venerdì che segna un po' il tempo di, stiamo chiudendo anche questa settimana e ci prepariamo magari, vorremmo dire ci prepariamo per lo spritz del venerdì sera. Non è il momento. E ce lo facciamo nell'altra stanza. Ecco, esatto, autodidatti dai. Infatti, allora questa sera con Alice, io sono molto contenta, prosegue il nostro percorso nato insomma in questo progetto che è Scrivilab ma più che altro è il laboratorio di scrittura costruttiva che abbiamo visto, la settimana scorsa abbiamo avuto l'autore, la settimana prima abbiamo avuto uno delle menti, l'editore Paolo Gidoni, che hanno pensato a questo laboratorio di scrittura dal quale nasce anche il gioco Scrivilab, perché è un gioco in questo momento di distanza, abbiamo pensato che seminare belle parole ed essere uniti attraverso le parole e la passione della scrittura fosse una cosa veramente carina, che facesse insomma del bene un po' a tutti, almeno a chi ha la passione di scrivere, di solito chi ha la passione di scrivere ama anche leggere. Noi abbiamo avuto il nostro attore meraviglioso che ha letto il primo racconto nato praticamente da 16 anni che non si conoscono, e hanno creato quel racconto bellissimo che proseguiva l'incipit di Vanni Santoni. Adesso è Alice, è lei l'editor che sceglie le famose... Responsabile e colpevole. E Alice è laureata in lingue e culture per l'editoria e con un master in editoria, ma quello che mi ha colpito della sua biografia quando le ho chiesto è proprio appena ho letto, ho pensato che si realizzava quello che Ilman scrive nel codice dell'anima, la teoria della ghianda. Già da piccoli abbiamo, riconosciamo in noi i segnali di quello che saremo da grandi, dobbiamo riconoscerli e accettarli a volte. Ma Alice è andata diretta come il furzo perché lei studia tutto, ha detto io voglio leggere e correggere. Esattamente. Adesso lei è l'editor e responsabile dello staff editor di Caosfera Edizioni e ha un motto che vorremmo avere tutti. Fa di tutto per essere felice e quindi è la realizzazione appunto del suo progetto ghianda. Allora, noi che scriviamo, noi che giochiamo con le parole, ci piacerebbe sapere che cosa fa un editor, cioè il lavoro dell'editor in che cosa consiste. Allora, io vorrei iniziare a spiegare cosa significa fare editing da la definizione del vocabolario, semplice. Quindi editing nel vocabolario si legge che è sostantivo inglese dal verbo to edit, che significa curare l'edizione di un'opera. Cosa dice il vocabolario? Si legge in editoria cura redazionale di un testo per la pubblicazione, cioè lettura attenta intesa a verificare la correttezza di ortografia, grammatica, sintassi, l'organizzazione strutturale del testo e la sua coerenza interna, l'adeguatezza dello stile, l'esattezza e la rispondenza alla realtà delle asserzioni scientifiche, storiche, eccetera. Questa è una definizione che proprio dà il significato totale del nostro lavoro. In pratica il testo sta al centro, sta a metà strada fra l'autorità artistica dell'autore che ce lo propone e invece dall'altra parte la prospettiva critica di un editor che lo legge e che lo deve poi presentare al pubblico e lo deve pubblicare. L'editing quindi si pone come obiettivo principale quello di rendere armoniche le parti del testo al fine quindi di risolvere eventualmente dei difetti all'interno della struttura, nella lingua o all'interno appunto dei contenuti e appunto in modo tale da far emergere la bontà narrativa. La bontà narrativa è il fulcro di tutto. L'autore ha una sua idea, ha un suo progetto, lo mette su carta però magari nel percorso può incontrare degli ostacoli, può fare degli errori a livello appunto di lingua, a livello di anacronismi storici, di punteggiatura e quindi l'editor lo aiuta a risolvere tutto ciò perché un libro, un testo sia facilmente poi leggibile. L'editing però non deve assolutamente snaturare il testo, quindi il lavoro dell'editor non deve andare ad intaccare lo stile dell'autore. L'editor si pone come obiettivo quindi l'esprimere al meglio le potenzialità dell'autore e del testo stesso, quindi modificando, tagliando, sistemando, correggendo però appunto mantenendo in sé la bontà narrativa. Una citazione che mi piace molto di un editor famoso, cioè Angela Rastelli di Einaudi, è questa. Il lavoro di un editor è buono quando non si vede. L'editor deve essere neutrale e trasparente, è l'autore che deve parlare, è il libro che deve avere visibilità. Quindi il protagonista vero è il libro, è l'autore, e l'editor deve essere neutro e imparziale dietro a questo lavoro. Ed è benvenuta questa definizione, veramente. Mi piace molto e mi emoziona anche spiegare queste cose. Nella sostanza però, cosa fa un editor? Voglio spiegarlo in poche parole. Le operazioni che facciamo sul testo sono di macro-editing, di micro-editing e di correzione delle voze. Il macro-editing è la lettura iniziale, la prima lettura e l'analisi della struttura del testo. Quindi l'intreccio, i personaggi, l'ambientazione. E su questo l'editor propone delle eventuali modifiche all'autore. Una volta concordate queste modifiche, si passa al micro-editing, che è il lavoro diretto sul testo. Si interviene quindi sul ritmo della frase, si sistema magari la punteggiatura, si evitano le ripetizioni se presenti, l'abuso di aggettivi, di avverbi, di pronomi. Parlando vedo che magari è più facile esagerare. Scrivere è un'altra cosa e leggere con un'abbondanza di tutti questi elementi non va bene. E inoltre anche la coerenza dei tempi verbali, quella è fondamentale. Infine, la correzione delle bozze è semplicemente una verifica di eventuali refusi che sono rimasti nel testo, eventuali doppi spazi e, cosa non ultima, l'allineamento alle norme editoriali della casa editrice per cui uscirà il libro. Ogni casa editrice ha delle proprie norme editoriali e quindi l'editor deve allineare il testo secondo queste direttive. Sì, è molto interessante questa cosa e finché parlavi pensavo l'editor entra in azione quando si è già deciso quando diciamo l'autore porta, presenta il proprio manoscritto lo porta un editore. L'editor interviene quando? Cioè, anche nella fase della valutazione sulla bontà del manoscritto o no? No, allora, dipende da come sono strutturate le realtà editoriali. In linea di massima, una casa editrice è strutturata in staff di valutazione e poi staff che si occupa della lavorazione del testo. Lo staff di valutazione valuta, appunto, legge e analizza il testo inedito che arriva alla redazione. Quindi, lo staff di valutazione decide se il testo è adatto o meno alla linea editoriale, al progetto, appunto, della casa editrice. Se, appunto, il progetto, il testo è valido, allora propone, ovviamente, fa una proposta di pubblicazione all'autore che, se accetta, poi, inizia, appunto, la lavorazione del testo e interviene l'editor, esattamente. Interviene il tuo lavoro. Esatto. È molto interessante questa cosa. Pensavo che, invece, fosse già in fase di valutazione, perché, invece, giustamente, c'è uno staff di valutazione. Esatto, esatto. C'è uno staff di valutazione e poi l'ufficio commerciale che si occupa, poi, di un'eventuale proposta da presentare all'autore in caso, appunto, di valutazione positiva. Interessante. E quindi, per... Visto che Raffaella ha scritto un lavoro bellissimo, cosa... Cioè, come si fa per fare questo lavoro? Come si diventa editor? Si nasce. Si nasce. Si nasce. E ve lo dico perché io sottoscrivo il fatto che lei non ha due occhi, ma ha un radar, ha uno scanner, scannerizza e vede. Vede cose che gli umani non vedono. Purtroppo è deformazione professionale, quindi anche nella vita privata, comunque, l'aspetto pignolo dell'editor viene fuori sempre. Comunque, editor ovviamente si diventa con lo studio. Io posso, ovviamente, citare dei corsi di laurea per chi magari è più giovane e quindi ha piacere di intraprendere questo percorso. Ci sono dei corsi di laurea triennale e magistrale specifici, quindi tre o cinque anni. Io vi posso citare quelli, insomma, che ho visto che al momento sono ancora presenti perché vedo che ogni totta anni anche le università magari cambiano i corsi di studio, le proposte, in base alla quantità appunto di studenti che si presentano. Quindi so appunto Verona, dove ho frequentato io, l'Università degli Studi di Verona, che propone appunto una laurea triennale e anche una laurea magistrale. Poi c'è Milano, so di Roma, Bergamo, Genova, Urbino, Sassari, Teramo, insomma, quindi in tutta Italia una persona volendo può trovare un corso di laurea specializzato in editoria come anche in lingue per l'editoria, come ho fatto io, può essere appunto indirizzato alla traduzione editoriale oppure appunto comunicazione e quindi magari puntare al social media oppure economia per il marketing, economia e moda e comunicazione oppure grafica addirittura, quindi accademia di grafica. Cioè diciamo per diventare editor comunque ci sono varie strade perché un editor può essere un editor di narrativa generica e quindi avere una base generica di italiano per riuscire a correggere tutti i testi. Però ci possono essere editor specializzati e quindi se un ragazzo sceglie di intraprendere l'università di economia può tranquillamente diventare editor di manualistica per appunto librini, saggi economici oppure appunto anche specializzati in determinati ambiti. Quindi un editor non è necessariamente una figura che nasce da lettere, da editoria, da giornalismo, anzi il giornalismo è diverso dall'editoria, ci tengo a precisare. Quindi veramente insomma chi ha la passione poi per la correzione può fare svariati studi iniziali e poi specializzarsi. Ci sono anche master universitari dove appunto una persona da un background diverso, da lettere, da economia, da giurisprudenza, da grafico, può entrare appunto magari nello specifico nel mondo editoriale. Quindi master universitari di primo, o secondo livello, ci sono anche lì in tutta Italia, Verona, Milano, Roma, Bologna, Pavia. Io ho frequentato quello di Verona e ti danno una panoramica generica su tutte le attività che si svolgono all'interno della casa editrice, per cui uno può tranquillamente anche scegliere un'altra strada poi nel frattempo magari capisce che non vuole diventare un editor ma preferisce non so far parte dell'ufficio commerciale oppure può diventare un agente letterario, può seguire gli ordini, può diventare uno scout, quindi ricercare appunto autori. Il master ti dà una panoramica completa per cui su quello appunto si può andare tranquilli. Ovviamente ci sono anche dei corsi online mirati magari anche per persone più adulte che magari non vogliono o non possono intraprendere corsi di laurea. Ci sono corsi mirati per editor e correttore bozze. Normalmente sono questi due le attività che vengono proposte come anche quello che proporrà il nostro laboratorio di scrittura costruttiva. Sarà un corso dove una persona che è interessata a intraprendere la professione di editor potrà conoscere e imparare molte cose interessanti. Ultimo ma non ultimo secondo me è la passione. Quindi come dicevamo prima se una persona lo fa con passione poi lo fa anche meglio e più appunto in modo più opportuno anche per ovviamente l'ambiente in cui lavora. Perché se una persona non lavora con passione lo fa solo per per passare il tempo oppure per lo stipendio secondo me non arriva comunque a un lavoro concluso ottimo. Ok, come in generale insomma alcuni lavori probabilmente la parte il cuore ha una parte molto importante. Raffaella ha scritto un messaggio lunghissimo tu lo leggi Alice? Lo leggo sì un aspirante scrittore deve mandare dei pezzi di testo a vari editor o sperare nei concorsi ormai per fare l'editor è tardi dopo il liceo classico volevo fare la correttrice di bozze ma non mi hanno mai risposto si vede che ci vuole la laurea mi accontento di scrivere e correggere il mio blog se tornassi indietro. Raffaella non demordere nel senso che appunto una figura di editor può nascere come dicevo anche seguendo dei corsi online perché ci sono corsi online che sono veramente validi e che danno appunto un'infarinatura generale ma che danno poi anche gli strumenti adeguati per poi lavorare all'interno della casa editrice oppure da esterni perché appunto l'editor dovete sapere e il correttore bozze non sempre lavora all'interno di una casa editrice ma può tranquillamente lavorare da freelance e quindi da esterno ah ok questo non lo saperemo non è non è semplice riuscire ad entrare in una casa editrice in una realtà in un gruppo editoriale ma spesso e volentieri eh le realtà appunto editoriali richiedono o preferiscono avere delle eh figure eh freelance con partita IVA e che lavorano da casa in smart working sempre esatto e poi tramite deadline periodiche eh si interfacciano con i responsabili eh all'interno appunto della casa editrice e si eh poi interfacciano appunto per la consegna del lavoro quindi direi insomma che se una persona anche adulta può eh tranquillamente intraprendere un corso online per per diventare editor poi può inserirlo nel curriculum e eh proporsi alle case editrici sia come interno che come esterno ovviamente bisogna fare tanta pratica perché eh verranno sicuramente chiesti eh per eh valutare insomma l'operato dell'editor delle prove gratuite quindi eh tramite tanto esercizio e tante prove anche in autonomia eh l'editor appunto acquisisce esperienza e si può e si può formare e proporre alle realtà editoriali e allora eh allora Stefania Steffi eh scrive che Paola ci confido ci parlerai di questi corsi grazie allora più che io mi parlo io sono un po' l'editor digitale di quelli che sono i bei progetti e se scorrete nella pagina di Scrivilab se siete nella pagina di Scrivilab e scorrete eh nelle video dirette abbiamo fatto la video diretta con l'editore dove eh sono stati presentati i laboratori la settimana prossima dove definire le ultime cose con Alice Alice farà parte del anche come docente Alice del terzo step proprio quello dell'editor ci stiamo ci stiamo lavorando vediamo non svelo nulla ok e nei prossimi giorni faremo girare il link con la presentazione dei eh laboratori che eh eh sono partiranno verso la il primo step parte verso dopo la metà di aprile eh sono a numero chiuso ma insomma vi diamo tutte le informazioni e poi parte il primo ma poi insomma partono anche gli altri e sai che siamo già a ventun minuti quindi abbiamo già scorato esatto ok Raffaella ci sta dicendo che sta seguendo un corso di a scrocco da suo marito ok e e qui abbiamo una fan quindi ok che noi avremo come oscine prossimamente sono una delle autrici che pubblicano come esatto e ciao anche da parte mia ciao Maria Beatrice allora per chiudere io quello che chiedo sempre visto che Alice dice che fa questo lavoro ed è felice si vede insomma cioè che è una cosa che la soddisfa ci puoi raccontare che cosa veramente se c'è stato un episodio o qualcosa che ti ha particolarmente soddisfatto o se c'è qualche quali soddisfazioni ti può dare insomma il tuo lavoro allora questo lavoro a me appunto che sono fortemente appassionata e ho molto amore in quello che faccio dà tantissime soddisfazioni sempre ogni giorno e in tutti i testi che correggo come dicevamo all'inizio leggere e correggere mi ha affascinato da sempre e l'ho fatto fin da piccola per cui la ricerca del refuso dell'errore è diventata una missione per cui io qualsiasi cosa leggo qualche etichetta qualche banner pubblicitario gli articoli di giornale sono sempre nella ricerca del refuso quindi diventa come dicevo prima appunto una deformazione professionale anche nella vita privata comunque in linea di massima la soddisfazione è il vedere un'opera che appunto tu hai corretto pubblicata pubblicata perché sia letta e usufruita dalla maggior parte delle persone quindi vedere un'opera pubblicata secondo me non è soltanto una grande soddisfazione per l'autore che ha scritto il testo ma è una grande soddisfazione e un grande orgoglio per me che l'ho corretto per l'editorio ovviamente che ci ha creduto e anche per tutto lo staff che con me lavora al testo quindi dai grafici allo staff dell'ufficio commerciale poi lo staff social lo staff dell'ufficio stampa che lavorerà post pubblicazione voglio precisare appunto che non nessuno è perfetto non sono perfetta io non è perfetto nessun editor perché in tanti libri che si leggono anche di editori famosi si possono trovare dei refusi non c'è problema nessuno è perfetto ripeto quindi farsi sfuggire un refuso un errore può capitare non ci si deve non bisogna farne un dramma io per prima magari quando vedo che magari mi sfugge qualcosa mi arrabbio però non bisogna dai siamo umani non siamo macchine però quello che posso consigliare a chi vuole intraprendere questo mestiere è che magari appunto si trova in difficoltà i primi momenti perché appunto magari si lascia sfuggire delle cose banali dei refusi veramente stupidi una cosa utile è rileggere a distanza di tempo il testo quindi se si ha la possibilità si legge e si corregge la prima volta il testo poi a distanza di qualche giorno a mente fredda lo si riprende in mano e talvolta saltano fuori degli errori dei refusi che prima non avevi visto oppure altra cosa utile se si fa parte di una realtà editoriale molto grande si può far leggere il testo a un altro editore quindi avere due punti di vista ultima cosa ma non ultima perché appunto nella nostra realtà editoriale è una cosa fondamentale ci si fa aiutare anche dall'autore l'autore scrive il testo e poi ce lo dà da correggere noi lo correggiamo però può saltare qualcosa all'occhio anche all'autore quindi l'editor lavora sempre in comunione con l'autore ci si dà una mano a vicenda per cercare appunto i refusi per cercare di migliorare il testo e poi appunto lo si dà lo si dà alle stampe ok e allora adesso prima di salutare un parere quando ti arriva il lunedì mattina o la domenica sera anche ti arrivano le righe le nuove righe dei racconti di scrittura collettiva che cosa trovi? io tendo sempre con ansia la tua mail Paola con le nuove righe perché sono proprio curiosa di capire come le persone spaziano spaziano proprio da un'idea all'altra veramente in maniera incredibile quindi questo gioco è veramente molto curioso ai miei occhi perché appunto quando mi capita appunto di leggere la mail e di vedere le righe a volte ci faccio anche una risata dietro perché mi dico guarda che bella idea che ha avuto lei guarda che bello spunto che ha tirato fuori lui e quindi da lì poi si decide quale promuovere per procedere ovvio io scelgo quella sezione quella parte di testo che ha più che ha la possibilità la possibilità di più spunti per una parte successiva quindi cercate appunto di ampliare la vostra la vostra fantasia cioè date proprio libero sfogo ai vostri le vostre idee perché appunto una sezione che si chiude lì di solito non viene scelta perché appunto poi il gioco è proprio quello di andare a finire magari dove non si credeva mi sa dove andremo a finire esatto allora vedo che anche tu attendi con curiosità le storie perché si inizia come l'ultimo insomma da una sparatoria nel fair west e iniziano ad apparire soldi e cose meravigliose va bene e dopo appunto la cosa migliore è vedere poi alla fine del gioco dove si è andati a parare con le varie idee di tutti i partecipanti quindi è bello proprio poi rileggere con il lettore attore il testo finito come garden gnomes che cosa la storia una storia d'amore di lontananza bellissima grazie Alice grazie a tutti abbiamo avuto un sacco di persone questa sera e quindi vuol dire che le cose che stiamo raccontando per lo spritz del venerdì sono anche piacciono anche e vi salutiamo ci vediamo venerdì prossimo con un autore l'appuntamento è con un autore vero Alice mi sembra? con il curatore di una collana di Caosfera ok con il curatore posso già anticipare chi è se mi concedi si tratta di Jacopo Dalla Palma che è il curatore della collana sportiva di Caosfera Olimpia andate a cercare su Caosfera la collana sportiva Olimpia è molto interessante io aprirò solo le porte io apro le porte verso il caffè e così e l'intervista però la farà l'editore Paolo Gidoni noi ci vediamo in settimana scrivete le nuove righe del gioco entro domenica che lunedì le mando ad Alice e proseguiamo con il nostro gioco di scrittura collettiva esatto saremo praticamente tutti rossi quindi non ci rimane che scrivere esatto vi aspettiamo allora con le vostre righe ok ciao a tutti ciao ciao buona serata ciao ciao